Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Jackie Channel Oggi inizieremo una nuova serie che avevo promesso in qualche video precedente che fra i tanti miei progetti avevo inserito che è appunto quella anche di voler recensire dei film Cosa voglio fare però io? Non voglio andare a recensire film che diciamo sono conosciuti film su cui tutti hanno parlato, film che ci vengono proposti ogni giorno alla tv su trailer, su trailer che hanno fatto un gran successo al cinema ma vorrei parlare di film particolari che magari io ho visto e che mi hanno colpito Nell'ultimo periodo ho guardato diversi film ma uno mi è veramente rimasto impresso è un film realizzato in Germania e si chiama Lui è tornato è un film tratto da un romanzo in questo film accadono cose molto particolari ora come ho fatto con le serie tv non vi farò alcuno spoiler non sarà un video molto lungo, vi andrò ad illustrare semplicemente quali sono i punti forti di questo film e perché mi è rimasto così impresso vi lascerò all'interno del video diversi momenti con immagini alcuni video tratti dal film per farvi capire meglio anche di cosa sto parlando per intrattenervi un po' di più è il film che parla della storia di Adolf Hitler che nel 2014 si risveglia in un parco di Berlino nel centro di Berlino e da lì comincia un percorso di questo personaggio è proprio lui Adolf Hitler che inizia a cercare, fa proselitismo ricomincia a fare quello che aveva fatto nella Germania nazista cioè non nazista, in quella che c'era prima che nascesse il nazismo in questo film quindi lui cerca di riportare in auge il suo pensiero ovvero quello di voler risvegliare i torpori dell'umanità in questo caso della Germania per cercare di portare la Germania al vecchio splendore allo splendore a cui lui aveva portato appunto la Germania ora, nel film ci sono molti aspetti comici molti aspetti anche di commedia che fanno ridere ma in realtà il film ve lo propongo perché fa anche molto, ma molto, pensare ora vi faccio vedere un breve trailer all'interno di questo film ci sono dei dialoghi veramente importanti veramente fondamentali e siccome non voglio farvi alcuno spoiler vi voglio semplicemente illustrare brevemente quale penso sia il fine del film che ho letto in numerosi siti e comunque di altri soggetti più competenti di me che lo hanno recensiti infatti l'aspetto fondamentale su cui vuole farci riflettere il film è cosa potrebbe succedere al giorno d'oggi se un personaggio come Adolf Hitler si ripresentasse ora con gli strumenti di comunicazione con i mass media che ci sono oggi come un pensiero come il suo potrebbe diffondersi come potrebbe influenzare le menti odierne cosa farebbe l'uomo di fronte a un personaggio del genere lo appoggerebbe come hanno fatto nel secolo precedente avrò permesso che un individuo del genere potesse cambiare le sorti dell'umanità come era accaduto dopo quello scopo della seconda guerra mondiale quello qui vuole farci riflettere questo film è proprio questo cosa succederebbe se un giorno ritornasse, si trovasse veramente a Berlino Adolf Hitler i tedeschi lo seguirebbero? ora, vi leggerò un breve tratto di un dialogo del film Savaschi, che è appunto un giornalista che è il primo, dopo è stato licenziato è il primo a vederlo in questo giardino che in qualche modo risuscita e da lì cerca questo giornalista di riportarlo in auge per riprendere il proprio posto di lavoro come giornalista cerca di diffondere il pensiero di Adolf quindi abbiamo proprio questo personaggio che aiuta Adolf a fare insomma propaganda politica il discorso che fa Savaschi è lui gli dice lei è un mostro Adolf Hitler risponde pensa questo allora dovrebbero condannare tutti coloro che votarono questo mostro erano tutti mostri? no era gente comune che decise di votare un uomo fuori dal comune e di affidare il destino del proprio paese lei si ha mai chiesto perché il popolo mi segue? perché in fondo siete tutti come me abbiamo gli stessi valori questo è un dialogo uno dei primi dialoghi importantissimi perché è importantissimo? perché lui vuole dimostrare che anche adesso se gli stessi un personaggio come lui forse qualcuno ancora lo voterebbe perché? perché vi sono dei problemi nella società ad oggi in Europa in Germania in Italia che sono in parte gli stessi che c'erano all'epoca di Hitler ed è proprio per quello che è riuscito a salire al potere perché ha fatto forza sui quei problemi il secondo dialogo che vi proporrò che poi è l'ultimo perché il video non vuole che sia troppo lungo voglio solo cercare di farvi capire che questo film anche se di nicchia è veramente fa riflettere molto è un'altra frase detta da Hitler dopo che ha visto che in tv non si fa altro che vedere programmi di cucina di insomma tutte quelle serie tv quei programmi che vediamo oggi Masterchef eccetera cosa dice Hitler? povertà infantile povertà senile disoccupazione tasso di natalità a livelli irrisori e vi stupite come si può in questo stato mettere al mondo un figlio corriamo verso l'abisso profondo ma non ci è dato a vedercene perché in televisione non ci fanno vedere questo abisso no affatto loro cucinano quindi anche in questo in questa pratica di Adolf Hitler era chiuso tutto il suo pensiero ma che come vediamo non è poi così vecchio come pensiero ma è un pensiero moderno lui tira fuori esterna dei problemi che sono ad oggi fondamentali nella nostra società a cui nessuna volta può pensare si concentra magari su altro perché non vuole soffrire vedere i veri problemi che abbiamo oggi allora cosa succederebbe se veramente Adolf Hitler si risvegliasse nella Germania odierna i tedeschi lo proverebbero cercherebbero di risolvere questi problemi e un pensiero come il suo così radicale così estremo in una diffusione che ormai potrebbe essere quella mondiale come ho detto prima con gli strumenti di Massimedia cosa porterebbe? quindi il video lo concludo qui non voglio che sia troppo lungo vi voglio semplicemente far riflettere su questo è un film che tutti dovrebbero vedere ne hanno fatti moltissimi film su Hitler ma questo è un film che appunto è particolare fa ridere ma come al solito fa riflettere ed è questo che mi piace principalmente di quello che guardo come si è detto serie tv film deve fare riflettere in un mondo come il nostro oggi dove ci sono tantissimi problemi problemi sociali di povertà o di disoccupazione se un soggetto ti promettesse di cambiare le cose anche a costi molto alti cosa faremmo noi? lo seguiremmo? lo criticheremmo? lo appoggeremmo? ecco vi lascio con questa domanda e vi ringrazio tutti di aver visto questo video vi ho lasciato qualche immagine e qualche video ci vediamo presto con un'altra serie questa era la serie la prima puntata della serie film ci vediamo presto nei prossimi video ancora con ambiti di gaming di serie tv e di film grazie a tutti per aver visto questo video ci vediamo presto sul canale di Jackie Channel a presto